Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignone. Il traffico si mantiene regolare in tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. La ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, è chiusa in località al Viano Magra, nel comune di Aulla, Massa Carrara, in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. In Filippi, per lavori di messa in sicurezza del viadotto del turbone, code a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginesta Fiorentina, in direzione Firenze. Nel raccordo stradale Siena-Firenze, in direzione Siena, dal chilometro 51 al chilometro 53, chiusa la carreggiata est, con doppio senso di marcia nella carreggiata ovest, e scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1, Firenze in Pluneta, in direzione Firenze. Nel raccordo Bettolle-Perugia, fino al 2 giugno, per lavori nei pressi dello svincolo di Petraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo, in direzione Perugia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!